Quello che state vedendo è un centro dentistico all'interno di questa struttura imponente ed innovativa andiamo a conoscere il dottor Giuseppe Decorato. Tra le innovazioni portate dal dottor Decorato rientrano anche quelle relative alle parti protesiche. Sì certo infatti come ha detto bene abbiamo parlato di come preservare un dente, come salvarlo, abbiamo parlato di come sostituire la radice di un dente attraverso l'impianto, adesso dobbiamo arrivare alla fine, cioè realizzare un dente. La tecnologia sempre 3D ci permette di poter acquisire un'impronta attraverso uno scanner introrale, un modello virtuale viene realizzato attraverso particolari software che ci permettono poi di realizzare il dente. Il dente verrà fatto interamente in questa particolare porcellana che si chiama disilicato e esteticamente e anche come resistenza abbiamo degli ottimi risultati. Si evita quel fastidioso momento in cui deve essere presa l'impronta con l'impasto che è un momento molto invasivo per il paziente e fastidioso, invece in questo modo i tempi si riducono ottenendo una grande estetica e grande funzionalità a lungo tempo.